Le parole sono importanti, tuonava Nanni Moretti in pallonbella rossa ed è proprio quello che noi vorremmo provare a fare questa sera, visto che i giornalisti usano molte parole, ma anche i politici, un viaggio nel lessico della politica. E la tesi che sono le parole che fanno la politica, la cultura, le parole che strutturano l'intera società è la tesi di fondo del sillabario scritto da Francesco Merlo, inviato di Repubblica, editorialista, custode di un alfabeto di lingua italiana che sicuramente è prezioso per capire anche cosa sta accadendo nel presente. E allora buonasera Francesco Merlo, grazie per essere con noi, visto che lei non è avvezzo a fare molte apparizioni televisive, quindi grazie per questo video. Eccolo, il suo sillabario dei malintesi e questo tomo qui è una specie di abbecedario della contemporaneità. Partiamo da una parola, Merlo, trasformismo che attraversa tutta la storia d'Italia nel suo racconto fin dal governo di Agostino De Pretis. E la più antica delle parole che acchiappano la sostanza e che ancora adesso riescono ad acchiapparla risale al 1876 che è anche l'anno di nascita del Corriere della Sera, quindi nasce contemporaneamente il giornalismo italiano e nasce la parola che meglio acchiappa la politica. E forse la sabidità del giornalismo italiano si deve anche a questo. Il fatto, credo che sia noto a tutti, è un pezzo di destra di Minghetti che passa con la sinistra di De Pretis, quindi nasce il Corriere della Sera, va al governo la sinistra storica e ci va con un'operazione di trasformismo. La parola trasformismo prima venne chiamata assimilanza, che è una parola che non ha avuto successo, non ha avuto carriera e poi divenne trasformismo perché De Pretis in Parlamento disse che cosa possiamo farci se alcuni di loro si vogliono trasformare e passare con noi. Poi il trasformismo è diventato nel corso del tempo ribaltone, è stato il giro di Walzer, il trasformismo è anche quella telefonata che l'8 settembre quando Alberto Sordi, tenente, credo, tutti a casa, sottotenente dell'esercito italiano si accorge che i nazisti gli sparano contro, cioè gli alleati gli sparano contro, fa la telefonata al suo superiore e dice signor Colonnello qui è successa una cosa incredibile, i tedeschi si sono alleati con gli americani. E ci sparano contro. Questo è solo un assaggio, altri ospiti sono con noi, collegato da Milano c'è Alessandra Ghisleri, sondaggista, buonasera e benvenuta. E un altro artigiano della parola. Buonasera, buonasera. E lo scrittore artigiano della parola Pietrangelo Buttafuoco, buonasera. Buonasera. Anche a lei però, qual è, in una parola sola, poi ci torniamo, qual è la parola che meglio descrive l'epoca che stiamo vivendo? Ancora una volta trasformismo. Sempre lì siamo. E sempre lì siamo. La forza delle parole è quella di catturare la contemporaneità svelando anche un inganno, e cioè l'illusione che tutto sia cambiato nel frattempo. Aveva ragione quello lì, il vecchio gattopardo. Tutto cambia finché nulla possa cambiare. Tutto resta uguale. Tant'è vero che se mettiamo in fila tutti i governi di cui abbiamo memoria adesso, governi tutti extra elettorali, beh, da Enrico Letta, da Monti fino a Renzi, adesso Gentiloni, che cos'è stato se non un impasto dove la marea parlamentare ha cercato di adeguarsi di volta in volta e quindi, notizia di questa estate, il gruppo misto è diventata la terza forza parlamentare. E' uscita la scoperta quella che è la vera, intima natura profonda della politica, che è sempre quella di guardarsi, identificarsi, riconoscersi e apparentarsi. Hashtag in onda per commentare la puntata. Subito dopo la pubblicità mettiamo, come si dice, i piedi nel piatto, anzi i piedi nel libro in questo caso, tra poco. Bene, allora di nuovo in diretta, le parole, l'Italia in poche parole, del nostro Luca Sappino, che ci racconta il libro di Francesco Merlo. Vediamo. La storia la fanno le parole, scrive Francesco Merlo, nell'introduzione del suo sillabario dei malintesi, edito da Marsilio. La sfida è raccontare l'Italia attraverso alcune poche parole chiave. E riesce, partendo da monarchia. La seconda parola, allora, è semplice, referendum, che sono sempre una sorpresa e, almeno un po', un surrogato di guerra civile. Lo è stato quello del 46, poi quello sul divorzio, quello sull'aborto. No, quant'è cambiata l'Italia, eh? Una parola tira l'altra, come le patetine. Allora, complotto, evoca il referendum che fece nascere la Repubblica, Piazza Fontana, Enrico Mattei, ma anche l'arbitro Moreno di quell'Italia-Corea, finita malissimo nel 2002. È però una parola buona anche per la più recente politica, complotto, dove le troppe scechimiche, i vaccini e le trilaterale rendono inverosimili anche retroscene e poteri reali. C'è poi cemento tra le parole che possiamo scegliere, ed è giusta per raccontare l'eterna battaglia con il paesaggio, l'Italia delle infrastrutture e dell'architettura, di Nervi e Renzo Piano, ma anche quella della speculazione, dei crolli, della troppa sabbia nell'impasto. Per alleggerire, ma mica tanto, rotocalco è un'altra parola perfetta per noi altri, che ci porta negli anni 50, ma che può, passando per Fellini, per i paparazzi, per la pubblicità, accompagnarci fino a Silvio Berlusconi, che un rotocalco mandò a casa di tutti gli italiani, se ricordate, per raccontare quanto bella, unita e felice fosse la sua famiglia, ricca forse, ma così italiana. Sono parole come ciliegie, una tra l'altra, però mettiamo il fuoco su una di queste parole, che sono nel sillabario dei Manintesi di Merlo, ma sono nel dibattito di questi giorni, ed è diventata anche marketing politico. Quindi vorrei chiedere alla dottoressa Ghisleri se il Waffa è diventato uno degli strumenti del suo mestiere, uno strumento di analisi per il paese, diciamo dal punto di vista di una politologa, prima ancora che di un giornalista. Il Waffa? Eh, il Waffa! No, diciamo che è stato uno strumento di analisi, cioè nel senso abbiamo cercato di studiare quali... Non ho capito, scusate. No, non abbiamo parlato, stavamo ascoltandola. Stavamo ascoltandola. Ah, scusate, non si sentiva. No, abbiamo analizzato quale potesse essere la reazione del Waffa sulle persone, ma è semplicemente una parolaccia. Potrebbe, come nel libro, è un malinteso. È un malinteso per mandare a quel paese quelle che erano le parole di cui si è fatto usura, come riformismo, come riforma, come equità, come populismo. Sono parole che guardano avanti e che spesso la politica ha usurato. E il Waffa era una sintesi usata soprattutto da Grillo per far riemergere un riavvicinamento della gente alla politica. Quindi è un sistema completamente diverso. È interessante questa analisi della Ghislaine, come negazione delle altre parole. Invece Merlo cosa pensa del Waffa? Penso che il Waffa sia stato, sia ancora, un progetto politico, più o meno come le convergenze parallele. Io, che sono anziano, ho cominciato giovanissimo a raccontare le convergenze parallele, adesso mi trovo a raccontare il Waffa. E benché la cosa possa stupire, credo che ci sia una somiglianza fra le convergenze parallele e il Waffa. Non perché c'è una somiglianza ovviamente tra Moro e Grillo non si somigliano neanche lontanamente. Mette insieme due cose opposte. Mette insieme due cose opposte. Soprattutto racconta un impossibile. Perché le convergenze parallele, che sono il punto di fuga, pensate a due binari, guardando in avanti c'è un punto in cui sembra che convergono. Non convergono mai. Le convergenze che dovevano convergere erano il diavolo e l'acqua santa, la democrazia cristiana e il Partito Comunista, il Papa, la mafia e l'antimafia. Era la prospettiva forse, no? Come? Era un gioco di prospettiva. Il punto focale della prospettiva. Certo, era un modo per... Tra l'altro è una frase che Moro non pronunzio mai. Anche questo retroscencio nel libro, perché te l'ha confessato Scalfari questa cosa. Scalfari scrisse, nella sua genialità di giornalista, scrisse un articolo sull'Espresso nel 60, credo, che si intitolava Il governo geometrico e raccontò la speranza di Moro come convergenze parallele. Lo stesso Scalfari scrisse Una cineseria. E quando io poi ne parlai con Martino Azzoli, Martino Azzoli mi disse è una balla, però è una balla che ha cambiato la storia, disse sì, è vero, ed è quindi un falso autenticato, perché lo stesso Moro disse io non so, me l'hanno attribuita, ma non so se l'ho pronunziata. Ma per non scappare dalla domanda iniziale, il Waffa è la stessa cosa, perché il Waffa è un'impossibilità. Tutti capiscono che il Waffa è la rabbia italiana, quindi mandare a quel paese è la famosa canzone di Alberto Sordi, che io cito sempre, te ci hanno mai mandato a quel paese, che comincia mandando a quel paese la moglie e poi dopo aver mandato il capo ufficio e tutti quanti, alla fine manda a quel paese se stesso, seduto sul gabinetto, dice io me conforto e me consolo col fatto di mandare a me c'è da solo. Questo è il destino del Waffa, perché se tu stai all'opposizione e mandi a quel paese, si capisce, ma se tu stai al governo, chi mandi a quel paese? Cioè mandare a quel paese come progetto politico è un'impossibilità come le convergenze paralleli. Voglio farvi vedere e così coinvolgiamo subito di nuovo anche Buttafuoco e la Ghisleri alcune foto che sono, come dire, i protagonisti del dibattito politico e vorremmo capire il loro uso della parola, lo facciamo con i nostri esperti. La prima foto è quella di Matteo Renzi. Me lo date un flash, caro Buttafuoco e cara Ghisleri, l'uso delle parole di Renzi. Rottamazione è d'accordo, però anche questo forse nasconde dietro qualcosa di molto italiano, o sbaglio? Beh, però nella rottamazione, che in un certo senso è la prosecuzione della rabbia con armi più furbe, nasconde anche un progetto politico che è quello di sottrarre all'Italia quel tentativo, quel barlume di pacificazione e di armonia che si era avviata negli anni precedenti. E la rottamazione, che non è nient'altro che la prosecuzione della rabbia, è speculare, paradossalmente, più a Grillo che a Berlusconi, di cui lui è l'erede. Dottoressa Ghisleri, la rottamazione logora chi non la fa o chi la fa? Per parafasare Andreotti. La rottamazione logora di per sé, cioè il significato è all'interno della parola. Credo che Renzi con il metodo del suo linguaggio l'abbia facilitato con le slide, con tutte le immagini, ha semplificato al massimo, tanto che le persone tutti hanno capito, non era più una convergenza parallela, era una semplicità. E quindi sulla semplicità ha aumentato la domanda. La domanda doveva avere delle risposte. E quindi le risposte non sono arrivate e il rischio della rottamazione è ricaduto di nuovo su di lui, perché il problema vero è stato che al referendum, alzando così il tiro e cercando di inserire tanti argomenti con tante parole all'interno di un unico scopo che invece era diverso rispetto a tutto quello che intorno si è creato, ha prodotto un risultato negativo che poi non ha vinto la sua proposta. Altra foto che mi proponiamo! Solo sulla rottamazione una battuta. Ah, puoi seguire meno sulla rottamazione. Prima di passare all'altro. Perché lui fa un gioco di parole sulla rottamazione nel libro. Sì, io dico più che un gioco di parole, io penso che rottamare sia stato una parola che ha funzionato. Tant'è vero che Renzi è diventato il leader del paese sull'onda di quel progetto politico e sull'onda di questa parola. Perché ha funzionato? Perché accanto all'idea di mandare a casa i più anziani, cioè quelli che tengono la poltrona, e guardate che tenere la poltrona è un corollario del trasformismo, perché il trasformismo poi diventa nominalismo, cioè tu cambi nome e rimani te stesso, e Beltroni e D'Alema hanno cambiato tantissimi nomi e sono ancora lì. E sono rimasti se stessi. È evidente. Ma rottamare? Rottamare contiene, oltre al rumore di ferraglia, delle macchine, contiene la rotta e il mare. Ed è una cosa che nell'orecchio ti arriva immediatamente, ti arriva come progetto politico. Quindi parola efficace questa. Altra foto, altro protagonista, Silvio Berlusconi, un uomo che insomma con le parole non solo ha costruito il grande impero che conosciamo, ma ha già costruito anche un partito. Ghisleri, lei che ne è stata a lungo la sondaggista, guardate che foto abbiamo scelto. Berlusconi ha la parola? Beh, lui ha parlato tanto anche con le immagini e nel mondo attuale scrivere, vuol dire anche, si può scrivere, si scrive bene anche con le immagini, soprattutto con le immagini. Lo ricordava prima lei, lui ha mandato un magazine a casa degli italiani per evitare la mediazione di quello che era il suo messaggio. Ed erano immagini, era una storia raccontata da tutte le foto che hanno composto la sua carriera. Pensate all'immagine di Berlusconi seduto in una famosa catena di fast food che mentre mangia, oppure pensate all'immagine nel giardino mentre allatta un agnello. Quindi utilizza molto l'immagine. Le parole poi spesso le hanno aiutato. Lei ha citato, come dire, due foto dell'attualità di questi mesi, però se invece vediamo le prime foto di Berlusconi, non allattava Agnellini, ma passeggiava nella sua bellissima villa di Arcore e si rappresentava anche con tutta la sua famiglia. Quindi anche Berlusconi è cambiato, ha seguito lo spirito del tempo. Ebbè, ma tutto evolve, anche il linguaggio. Infatti il trasformismo con cui abbiamo introdotto è la parola che poi porta anche a un cambiamento. Le parole devono guardare in avanti. 20 anni fa non pensavamo al web. Adesso sembra cioè il web è fondamentale. Nel marketing politico non è che si vince una campagna con internet, però se non ce l'hai, come si dice, aiuta molto a vincere. Quindi è ovvio che le parole raccontano una storia come nel libro, ma sicuramente vanno sempre aggiornate. Pensiamo anche all'evoluzione che c'è nell'introduzione nei vocabolari di quello che sono le nuove parole che usano gli italiani. E questo è importante perché poi il linguaggio è quello con cui si comunica. Merlo. E spesso è proprio quell'arma con cui la politica tradisce il proprio elettore. Merlo, su Berlusconi si possono dire quasi in tutte le cose. tante parole a partire dal nome che ha dato al suo partito, no? Ma certo, ma intanto la prima cosa da dire è che con Berlusconi il trasformismo cambia da trasformazione ideologica in trasformazione estetica. Cioè Berlusconi introduce la chirurgia estetica e quindi introduce una serie di parole che sono veramente l'indicibile nella storia del paese. Cioè papi, mignotocrazia, ci sono in radio alcune deputate legate a Berlusconi cantano e forza gnocca perché siamo tantissime introduce e arrivano le oggettine cioè con Berlusconi le parole italiane entrano in un cortocircuito straordinario è un terremoto dal punto di vista linguistico e la bandana la bandana diventa la bandiera della politica non so se la bandana esibita nella villa in Sardegna e poi le ville si andava ad Arcore e Berlusconi diceva venite con le signore che era un modo attraverso il quale si faceva carriera e lo stesso Renzi va ad Arcore se vi ricordate quando era inizia la sua carriera andando ad Arcore così come una volta si andava alle frattocche piuttosto che nella Toto Carmi dalle frattocche a Arcore buttafuoco il berlusconismo che voce è nel tuo vocabolario? Ha ragione Ghisleri è innanzitutto immagine prendendo la bandana noi possiamo passare in rassegna tutta la serie di cappelli con cui lui si è rappresentato e si è presentata all'opinione pubblica ce lo ricordiamo con il berretto da marinaretto nella principessa vai via la mitica barca degli inizi poi ce lo ricordiamo col colbacco in visita da Putin ce lo ricordiamo col casco protettivo il presidente operaio e ricordando proprio quell'immagine evocata prima da Ghisleri una delle ultime Berlusconi con l'Agnellino o Biberon che dir si voglia perché si confondono i due piani di bianco lì c'è un'operazione politica straordinaria perché mette a tacere definitivamente qualunque imitazione tant'è vero che nel solco di Berlusconi che dà il Biberon all'Agnellino chi si presenta si presenta niente meno che un personaggio agli antipodi del berlusconismo è diciamo l'antiforza gnocca per eccellenza cioè Laura Boldrini il presidente della Camera che si organizza e immediatamente fa arrivare due pecorelle che spaccia per Agnellini a Montecitorio una puzza incredibile quel giorno a Montecitorio e si sforza di fare una foto che replicasse che tentasse di cancellare quell'immagine di Berlusconi col Biberon risultato quale è stato? Zero efficacia anzi Berleffi è stata demolita definitivamente ha tentato infine di recuperare quando si è fatta fotografare con il certificato anzi no con un assegno dove attestava di avere adottato quelle che si ostinava a chiamare Agnellini ed erano invece pecorelle dimostrando ancora una volta l'ignoranza della sinistra verso un simbolo popolare qual è quella del greggio ho io però un aneddoto che fonde la chirurgia e il berlusconismo intervistai Crespi sulla famosa campagna più pensioni per tutti e ha raccontato questo aneddoto arrivò il comunicatore il grafico di Berlusconi e Ermolli con un cartello in cui c'era Berlusconi con una folta chioma ma in quel momento il cavaliere era calvo e allora Crespi disse no ma questa foto non si può usare Ermolli disse perché è il presidente è così che io lo vedo allora iniziò un litigio e Berlusconi disse no no Ermolli ha ragione Crespi ma non nel momento nel modo in cui pensa lui quando usciranno questi cartelloni i capelli ci saranno ma li avrò io e infatti fece il famoso trapianto è la sintesi massima cosmesi e politica bell'aneddoto altra foto sicuramente non è un agnellino Matteo Salvini che insomma non ha un linguaggio non ha un linguaggio da agnello Francesco Merlo qualcuno dice che Salvini ha introdotto come dire la rabbia in politica la categoria della rabbia non dico dell'odio ma sicuramente della rabbia io credo che non sia vero nel senso che Salvini continua l'operazione fatta da Bossi ovviamente la Lega di oggi è diversa da quella di allora però il linguaggio è lo stesso è Bossi il primo e il Bossi è il primo che cioè non c'è più Roma ladrona ma c'è Bruxelles ladrona sostanzialmente però Bossi che in televisione dice a De Mita attaccati al tram chiama segni l'umaca bavosa cioè i giornalisti sono coglioni da prendere a calci perché non abbiamo i soldi per comprarli cioè Bossi anticipa Grillo ed è ci fu Veltroni che denunziò Bossi cercò di portare in tribunale Roma ladrona come se si potesse portare in tribunale una metafora però che è la stessa storia degli agnellini perché anche quelli sono metafora gli animali sono animali e invece il bambi è una metafora cioè quindi si gioca ancora una volta con le metafora a proposito sempre di Salvini qualcuno dice ad esempio che così come in Italia abbiamo il partito del Vaffa in Francia molti francesi hanno votato la signora Le Pen perché era come dire merde ha scritto qualche mese fa durante la campagna per le presidenziali il quotidiano Le Monde quindi l'equivalente del Vaffa è il merde per la Le Pen però quella è una categoria speciale in Francia che non ha lo stesso significato che ha in Italia ha un radicamento storico diverso pronunciato dal generale di Napoleone comunque l'uso di queste cosiddette parolacce cambia secondo chi le usa perché se tu le sai usare cioè se tu Dante Alighieri usa le parolacce quando dice tai della puttana dell'inferno ed egli aveva del cul fatto trombetta però ha scritto la Divina Commedia se tu se tu usi le parolacce come scorciatoia perché non trovi le parole che è quello che succede oggi è molto diverso potrebbe essere inelegante e volgare un piccolo florileggio della lingua bossiana secondo Merlo Nando dalla Chiesa candidato a Milano e alla sinistra diventò un brigante albanese i giornalisti erano semplicemente coglioni Andrea Atta un cialtrone Berlusconi prima amicizia contrattualizzata era Berluscazzi il mafioso di Arcole un suino un piduista un povero pirla e peggio di Pinochet che cos'era questo un esercizio questo è Bossi ed è un Bossi che somiglia a Grillo cioè il vero sdoganamento dal punto di vista linguistico il vero passaggio del Vaffa l'ha fatto Bossi però scusi Merlo anche un uomo colto il celodurismo siamo armati armati di manico però non è che nella prima repubblica il celodurismo è un neologismo inventato da un giornalista che è Giuliano Ferrara anche lì c'è sempre il rapporto il genio con il giornalismo italiano che da trasformismo in poi riesce ad essere sapido e tutto sommato perché riesce a inventare le categorie perché riesce a proteggere attraverso la lingua e chi sono i dioscui del giornalismo nel tuo libro Scalfari e Montanelli che sono la mano destra e la mano sinistra del giornalismo italiano del novecento però Merlo non è che nella prima repubblica si parlasse il linguaggio che si parla nelle corti beh lei è un cialtroe diceva Ugo Lamalfa Rino Formica la politica è sangue merda sì però siamo nell'uso proprio della 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 parolaccia gadda cioè non nell'invettiva e nell'insulto non nella mancanza cioè ci sono in televisione è stato sdoganato il turpilocchio si sa che Vittorio Sgarbi l'ha sdoganato capra 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 però ben prima di capra con il nostro Luca Sappino andiamo a vedere le parole sono importanti come diceva Nanni Moretti le parole sono importanti come parla eh sì le parole sono importanti soprattutto in politica dove basta un inglesismo di troppo per farti passare per snob come sa bene l'ex ministro Elsa Fornero per cui i giovani dovrebbero essere molto meno schizzinosi devono anche non essere troppo chiusi come dicono gli inglesi uno sfottò a un avversario può invece tradire una certa idea del rapporto tra i sessi io avevo ancora negli occhi l'immagine della della Raggi una bambolina capitolo a parte sono gli strafalcioni che al massimo svelano la troppa emozione o le poche letture le aule parlamentari sono teatri sorprendenti breve circonciso ma secondo voi perché confindustria preve coinciso quella è un'altra cosa coinciso ho sbagliato coinciso ma le lingue straniere si dimostrano sempre più insidiose memorabili sono i senatori contrari spaventa ciò che non si conosce che non sanno pronunciare stepchild adoption l'adozione per i gay stepchild association adoption ma l'inglese è buono anche per camuffare ciò che forse non piacerebbe a tutti dire che serve un po' di austerity è molto meglio che annunciare tagli radicali ai servizi ma le parole ci raccontano dicevamo e sarà un caso che i partiti che hanno più sdoganato il torpiloquio in politica oggi siano dati per possibili alleati la parolaccia d'altronde sembra proprio faccia guadagnare voti lo scrive anche il linguista giuseppe antonelli nel suo saggio appena pubblicato per la terza da bossi a grillo scrive il torpiloquio non è solo inflazionato ma quasi istituzionalizzato dottoressa chiesleri ma questa cosa è vera qui l'unica che ci può rispondere su questo piano è lei cioè la lingua dell'invettiva è ancora una lingua potabile che porta consenso in politica ma sì se si creano degli slogan divertenti e piacevoli usare le parolacce invece è una formula dura come è stato spiegato prima lo usava bossi la usata grillo viene usata per richiamare l'attenzione laddove le persone urlano per potersi per poter farsi vedere ma poi abbiamo un'evoluzione perché dalla cannottiera ad esempio di bossi siamo passati alle felpe dove Salvini invece parla con la gente spiegando dov'è per chi lotta per chi rappresenta e quindi ha i nomi delle varie città e allora è un composto noi viviamo in un'epoca adesso dove ritorno a ricordare che l'immagine è fondamentale ma è importante tanto perché parla molto è veloce pensate solamente che anche Instagram ha ridotto i propri filmati a 30 secondi questo perché il messaggio politico deve essere breve deve essere ascoltato e deve essere di facile fruizione le parole raccontano come è la nostra storia e abbiamo attraversato una storia di tante parole che sono state anche bruciate usurate e quelle future che verranno ci racconteranno di nuovo non dobbiamo ci sono alcune parole che ci accompagnano sempre e pensavo ad esempio le ultime la povertà la ricchezza la differenza sono queste le parole sulle quali spesso e volentieri anche quando facciamo i test sulla semantica che viene utilizzata nei linguaggi delle persone per rispondere a determinati quesiti ci accorgiamo che sono parole ricorrenti e non sono mai cambiate e hanno sempre lo stesso significato e non vengono mai tradite in alcuni casi oserei dire purtroppo voglio tornare da Francesco Merlo per chiederle gli strafalcioni in politica alcuni ne abbiamo visti anche in questo in questo servizio secondo lei creano rabbia oppure avvicinano il politico alla parola orribile al cosiddetto popolo perché così chiunque può dire beh guarda parlano come mangiano sono come me ma gli strafalcioni bisogna distinguere cioè gli strafalcioni quando sono degli errori madornali di grammatica eccetera sono strafalcioni da ignoranti fanno ridere ed è una risata di scherno sostanzialmente quindi non serve alla politica quando invece per strafalcione si intende appunto il ricorso al turpiloquio una mala parola urlata eccetera allora questa può avvicinare questa può far credere che parla come mangia quindi questa idea che quando ce vo ce vo cioè questa idea che la parolaccia che scappa come emergenza che c'è sempre stata eccetera quindi bisogna distinguere caso per caso l'uso dell'inglese per esempio ridere di chiusi che è un inglese comunque appropriato e non è la stessa cosa di ridere di chi non sa pronunziare la parola step child adoption association pietrangio ti do questo là dal libro di francesco il nome storpiato fu una vecchia tecnica della destra italiana che chiamava per esempio il padre costituente Piero Calamandrei Caccamandrei l'azionista Luigi Salvatorelli Servitorelli Emilio Fede durante il G8 di Genova 2010 chiamava Luca Casarini e Vittore Agnoletto Casarotto e Agnolini e aggiungo che il re dei nomi storpiati ad Agospia con linguaggio il grillismo dei moltissimo la santa de che Luca di Monteprezzemolo Pier Furbi Aledanno Sergio Marpionne Colau Meravigliau il padre di tutto ciò è Guglielmo Giannini il fondatore del movimento per l'uomo qualunque il cui simbolo lo ricordiamo era quello di un omino torchiato distrutto massacrato dalle rapaci mani dello Stato e dei partiti il padre di tutto ciò è appunto il modello a cui spesso noi nel nostro lavoro facciamo ricorso per cercare di spiegarci dove possa arrivare questa benedetta rabbia e quello di storpiare è un modo di catturare immediatamente l'elemento forte anzi la benzina che accende i motori nel consenso elettorale che è quello di far sì che ognuno possa individuare nel soggetto proprio il bersaglio e soprattutto radunare questa platea da bar sport vedete io credo che è un modo anche per distruggere l'avversario per renderlo un idolo denigrarlo è anche una storpiatura fisica non è soltanto la storpiatura del nome io vi ricordo che l'invettiva ha sicuramente dei grandi autori anche nella letteratura basta pensare a Céline ma lo stesso Zola però la storpiatura è orribile perché la storpiatura è il naso del naso adunco la storpiatura è di destra sta dicendo Mello però uno che non è di destra e cioè Roberto D'Agostino ebbe un colpo di genio quando trovò la definizione di Romano Prodi mortadella dal volto umano lì e c'è letteratura pensavo fosse tua no senta Merlo che cos'è la società della cretinocrazia? è la prevalenza del cretino che però c'è sempre stata ma che però diventa diventa dilagante oggi perché è dilagante il cretino? è dilagante perché nel momento in cui attacchi la competenza e attacchi quindi il principio di autorità elimini qualsiasi rapporto con i titoli di studio cioè lei dice l'uno vale uno adesso non per parlare l'uno vale uno fa sì che il medico possa essere messo in discussione da qualcuno che non ha studiato ma che ha comunque un rapporto con l'intelligenza perché il cretino l'arma micidiale del cretino è sempre l'intelligenza e quindi quel po' di intelligenza che ti dà Google che ti fa cercare delle cose eccetera quello rende il cretino micidiale altrimenti il cretino è un fratello da abbracciare perché è una persona malata e invece lei dice diventa pericoloso nel momento in cui e qui io sono molto d'accordo con il mio amico Pietrangelo Buttafuoco il cretino non è più soltanto di destra cioè questo ormai lo sappiamo certamente c'è un cretino di sinistra che fu perché lei fino a poco fa invece era convinto che l'essere cretino fosse una prerogativa sono cresciuto che il cretino intelligente eccetera era di destra poi Leonardo Sciascia un giorno uscendo dall'ennesima discussione al consiglio comunale di Palermo con mille sigarette perché i cretini fumano con tutte queste mille sigarette che tante cose ideologiche eccetera in questa serata di Palermo sciroccosa disse e se fossero cretini e lì è iniziato il grande lavoro sentiamo la Gisleri perché il cretino fuma i cretini votano il cretino fuma pesano fuma pensa di essere intelligente con la sigaretta devo smettere di fumare e Gisleri usa la sigaretta no 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 Gisleri un'incompetenza spavalda quella che ha descritto e che quindi abbraccia tutti i campi nel senso che comunque c'è anche il detto la mamma dei cretini è sempre incinta però in campagna elettorale tutti abbiamo diritto al voto e quello che sembra non valere vale quindi uno vale uno per cui bisogna pensare che anche i leoni però l'incompetenza spavalda è una bellissima definizione perché si tratta di questo si tratta dell'ignorante che ci spiega tutto i sottotoni come li chiama Merlo fantuttoni no c'è un altro neologismo ma invece l'ultimo dei malintesi è una parola che mette lei nel vocabolario che è matria al posto di patria perché mi sono chiesto se è vero che la 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 natura è madre se è madre la lingua se è madre la città perché è metropoli e non patropoli se mi sono chiesto ma perché è patria e non è matria e penso che gli italiani siano più matriottici che patriottici e come si può spiegare questa cosa? si spiega perché la forza che è stata restituita anche da Carlo Azzeglio Ciampi che è quella dell'amore nei confronti dell'inno della bandiera e quindi dell'amor di patria in realtà più che al Quirinale o alle istituzioni il tricolore sventola sul cupolone sventola sulle nostre madri sventola su ciò che origine sangue e quindi sulla matria che è la famosa famiglia italiana Buttafuoco Buttafuoco non può accettare la matria Buttafuoco lei è di destra non abbatta la bandiera della patria a riprova di quello che sta dicendo Francesco Merlo un episodio ben preciso che è radicato proprio nella viva carne della destra e cioè del piccolo giovanissimo Leo Longanesi che decide di ascoltare i moniti paterni e anche quelli dei nonni eroi risorgimentali che si decide di partecipare a una marcia patriottica quindi si incammina sono scalmanati sono tutti agitati attraverso le vie di Bologna quando la madre lo individua arriva lo becca per l'orecchio e lo trascina via è la matria che vince però noi essendo anche dei campioni di ossimoro abbiamo inventato l'ossimoro più straordinario che è la madre patria perché è un ossimoro? perché è madre patria o sei madre o sei padre è una cuta follia però perché avevamo la lupa tutto nasce dalla lupa però torniamo con le parole per terra Matteo Renzi lei ne parla anche nel suo libro l'ha definito il bullo perché? beh questa è perché lo è perché lo è però qui c'è un non so anche possiamo ricollegarci anche all'attualità più recente che è quella del rilancio dell'antifascismo e del fascismo vi ricordate qualche settimana fa la polemica di cui abbiamo parlato dello stabilimento la legge piano lì va detto che ciò che del fascismo c'è in Italia non è questa fascisteria devo dire la verità il pericolo non viene da lì questa roba avrebbe fatto il reducismo che fa ridere avrebbe fatto arrabbiare i fascisti veri Mussolini buca con acqua è una parodia il fascismo balneare le sembra una parodia ciò che invece c'è nello stato italiano ed è intriso di fascismo sono le corporazioni innanzitutto ma soprattutto l'incapacità della leadership cioè l'idea che il comando sia l'urlo e sia di nuovo il turpiloquio torni a bordo cazzo e da questo punto di vista l'esempio più efficace è la mitico comandante De Falco esatto io non ho accetto di fare revisionismo su De Falco meglio lui di Schettino risalga quella scala di Bischiaccina in senso inverso e vada a bordo io penso che se Schettino fosse stato al posto di De Falco avrebbe detto la stessa identica cosa però allora diciamo non dico non dico che ordino i soccorsi da terra diciamola tutta Merlo mi sta dicendo che Schettino è l'archetipo tipico italiano cioè proprio un modello dell'arche italiano è un modello della leadership italiana il sali a bordo e guardate che la parola leadership vuol dire guidare la barca leadership è una parola intraducibile non tradotta in italiano nessuno dimentichi perché noi abbiamo l'imperium il comando abbiamo gli ordini i controordini gli ordini di servizio e i servizi d'ordine ma non abbiamo leader abbiamo bulli no no volevo soltanto dire nessuno dimentichi il detto dell'arche italiano cioè l'arche italiano non ha paura della legge di natura anzi talvolta egli corregge la natura della legge motivo per cui Schettino chissà dall'altro lato cosa avrebbe fatto però questa poesia che è una poesia di Curzio Malaparte era aveva come secondo verso cioè come la correggeva col bastone perché poi è sempre lì c'è l'idea che è l'idea fascista c'è l'idea che tu dirigi e governi o col bastone o con l'olio di ricido col torno a bordo cazzo e la carota se tu con la carota carota se tu il bastone e l'olio di ricido sono la stessa cosa se tu vuoi far tornare a bordo un tuo un comandante che è preso dalla paura non gli dici torni a bordo cazzo lo convinci in un altro modo come tutti sanno le direzioni dei giornali spesso vanno male perché ci sono dei defalco che le dirigono dottoressa Chesleri il leader quanto incide oggi quando lei fa quei numerini magici in cui ci dice quanto può muovere un leader nei partiti persona proprietà personale di cui raccontiamo in questi tempi beh intanto bisogna dire che se avendo ascoltato forse gli italiani cercano un condottiero antica parola però che traduce molto meglio no un condottiero l'ho detto per eccitare gli animi dell'amico buttafuoco un condottiero un dux con durre no per condurre eh sì perché il problema vero no perché il problema vero è che la gente ha bisogno di punti di riferimento e spesso noi abusiamo della parola leader perché evidentemente il segretario di un partito di qualsiasi partito diventa nel linguaggio comune il leader invece quello che cerca la gente è un punto di riferimento qualcuno che possa condurlo attraverso quelli che sono i fatti quotidiani attraverso le crisi attraverso quelli che sono tutti i problemi e che possa dare delle soluzioni o meglio che possa rispondere a quelli che sono le problematiche ecco perché parlavo di condottiero proprio per usare condurre e quindi credo che spesso diventa importante perché la politica questa insomma nella seconda nella terza fase dopo la fine della prima repubblica ha tradotto sulle persone quindi anche il personalismo e forse anche questo ha cercato di creare dei miti forti e quindi si cerca la ricerca del papa straniero la ricerca di chi può essere si cercano sempre e si cercano delle puntualità delle persone che abbiano una competenza e questo forse è proprio quello che stanno cercando gli italiani vediamo la copertina del libro i buttafuoco così abbiamo dato tutti i consigli per l'ombrellone in quest'estate i baci sono definitivi non ce la ricordiamo i baci sono definitivi l'ultima fatica di buttafuoco però l'ultima parola sul leader leadership duce e condurre aspetta a Merlo ma io penso che anche se fosse vero che gli italiani cercano un condottiero sarebbe una ragione di più per non darglielo cioè bisognerebbe trovare la maniera di formare dei leader i leader si formano o nelle grandi scuole come succede in Francia che ce l'è nà oppure si formano se volete anche nella strada nella piazza dovunque si deve formare un leader deve essere qualcuno che convince qualcuno che sa vedere bene un futuro che sa dare un orizzonte non qualcuno che sa solo comandare che vuole comandare e basta De Gaulle è stato un leader è un leader autoritario purtroppo come possiamo chiudere questa puntata fatti non foste a vivere come brutti ma perseguire virtute e canoscenza ma in onda torna c'è anche la trombetta ed è dal cul quella però è stata già citata grazie ci vediamo domani stessa ora stessa rete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti